Potremmo partire da una figura a triangolo, inset, scendo verso l'interno, shift D, shift D, shift D, ecco, estrudi, adesso questi dettagli dovrebbero esserci. Di 90 gradi, posso andare avanti e farmi dare dei suggerimenti, inset, dentro, rientra e ottengo due specie di antenne e mi incontro. Un po' più interessante per la luce, facilmente preparare varie visuali, creo un'altra copia, ecco così non è male. Una frequenza è qui ed è pronto per mille altre inquadrature. Questo disegno con tutte queste astronavi, con una flotta di tutte queste astronavi in prospettiva con tutti questi elementi sarebbe complicato. Invece qui ce l'abbiamo nel giro di un attimo, in questo modo posso andare a fare degli elementi di colore diverso. La metto al posto giusto. Un pennello ancora più grosso, in maniera che ne sparpagli davvero poche. Posso ruotare la mia illustrazione, anche ruotarla in questo modo. Voglio spostare. Cerco una bella inquadratura, con un paio di colpi di pennello. Si tratta solo di migliorare questo disegno il più possibile. Grazie mille.